Buongiorno, cari compagni e cari compagni di cammino. Il Libro degli Spiriti oggi è sabato 8 febbraio 2020. Siamo al capitolo 9 del Libro degli Spiriti, al capitolo 9, intervento degli spiriti nel mondo corporeo, pagina 219. Come gli spiriti possono penetrare nel nostro pensiero. 456. Gli spiriti vedono tutto ciò che facciamo? Possono vederlo in quanto ne siete continuamente circondati, ma ogni spirito vede solo le cose sulle quali dirige la propria attenzione. Infatti, delle cose che sono loro indifferenti non si occupano. Gli spiriti possono conoscere i nostri più segreti pensieri? Sovente conoscono ciò che vorreste nascondere a voi stessi. Né atti né pensieri possono essere loro dissimulati, nascosti. Certo, cari amici, non ci sono veli. Possiamo illudere la nostra coscienza momentaneamente, ma gli spiriti vedono e leggono ciò che pensiamo, ciò che diciamo e ciò che facciamo. 457a. Da ciò sembrerebbe più facile nascondere qualcosa a una persona vivente di quanto non sia possibile farlo a questa stessa persona dopo la sua morte. Certamente, e quando credete di esservi ben nascosti, sovente avete intorno a voi una moltitudine di spiriti che vi stanno osservando. Che cosa pensano di noi gli spiriti che ci circondano e che ci osservano? Dipende. Gli spiriti folletti se la ridono delle piccole controversie che vi procurano e si fanno beffe del vostro nervosismo. Gli spiriti seri vi compiangono per le vostre traversie e cercano di aiutarvi. Ed ora parliamo di influenza occulta degli spiriti sui nostri pensieri e sulle nostre azioni. Gli spiriti influiscono sui nostri pensieri e sulle nostre azioni? Per quanto riguarda ciò, la loro influenza è più grande di quanto crediate, perché molto di frequente sono loro che vi guidano. Noi abbiamo pensieri che ci sono propri e altri che ci vengono suggeriti. La vostra anima è uno spirito che pensa. Voi, di certo, non ignorate che molti pensieri vi arrivano contemporaneamente su uno stesso soggetto e sovente diametralmente opposti gli uni agli altri. Ebbene, ce ne sono sempre di vostri e di nostri. È questo che vi crea incertezza perché avete in voi due idee che si combattono. Come distinguere i pensieri che ci sono propri da quelli che ci vengono suggeriti? Quando un pensiero vi viene suggerito è come se una voce vi parlasse. I pensieri propri sono quelli del primo impulso. Del resto, per voi, questa distinzione non riveste un grande interesse e sovente è utile non saperlo. L'uomo agisce più liberamente. Se decide per il bene lo farà più volentieri. Se prende la cattiva strada ha solo una maggiore responsabilità. 462. Gli uomini di intelligenza e di genio attingono sempre le loro idee nel profondo del loro intimo. Qualche volta le idee vengono dal loro stesso spirito ma frequentemente esse sono suggerite da altri spiriti che li giudicano capaci di comprenderle e degni di trasmetterle. Quando non le trovano in se stessi, questi uomini di disegno, fanno appello all'ispirazione. È un'evocazione che fanno senza rendersene conto. Ed ecco una nota di Kardec. Se fosse stato utile distinguere chiaramente i nostri pensieri da quelli che ci vengono suggeriti, Dio ce ne avrebbe dato il mezzo come ci ha dato quello per distinguere il giorno dalla notte. Quando una cosa è nel vago è così che conviene che accada. 463. Si dice a volte che il primo impulso è sempre quello buono. È vero? può essere buono o cattivo secondo la natura dello spirito incarnato. È sempre buono in chi ascolta le buone ispirazioni. È certo. Ricordiamo che quello di primo impulso è quello che proviene dalla nostra anima. Come abbiamo sentito dalla risposta alla domanda 461. Anima che però è sempre accompagnata da spiriti buoni o cattivi a seconda del suo livello di evoluzione, a seconda di quello che pensiamo. Se pensiamo bene, parleremo bene e agiremo bene. Se pensiamo male, di conseguenza, avremo vicino spiriti ritardati, cattivi. Come distinguere se un pensiero suggerito viene da uno spirito buono o da uno cattivo? Considerate bene la cosa. I buoni spiriti consigliano solo il bene. sta a voi distinguere. A quale scopo gli spiriti imperfetti ci spingono al male per farvi soffrire come essi soffrono? Questo diminuisce le loro sofferenze? No, ma essi lo fanno per invidia nel vedere degli esseri più felici di loro. Che genere di sofferenze vogliono farci provare? Quelle di un essere appartenente a un ordine inferiore e lontano da Dio. Cari compagni, cari compagni, con questo vi lascio. Vi do appuntamento a lunedì 10 febbraio e vi mando un grande grande abbraccio via eteri, via magnetismo. Ciao, grazie.